Consigliere Emiliano Di Matteo, lei ha abbandonato la Lega ma non è passata inosservata oggi la sua presenza alla presentazione a sostegno del candidato Antonetti di Forza Italia con la presenza dell'onorevole Gasparri. Come mai qui in questa platea di Forza Italia sta ufficializzando l'ingresso? Io sono un uomo di centrodestra, voglio continuare a far politica, le due condizioni sono praticamente inscindibili, quindi io posso far politica solo nel centrodestra perché altrimenti non potrei far politica. Forza Italia è da sempre stato il pilastro nel centrodestra, mi ha manifestato apprezzamento anche quando militavo nella Lega e quindi è evidente che c'è un'intesa importante di fondo che stiamo conducendo e portando avanti subito dopo le amministrative renderemo come noto qualcosa che ormai è chiaro già a tutti. E' un modo per prelazionare una candidatura alle prossime elezioni regionali? Allora guardi, io se volevo la garanzia di una candidatura sarei rimasto dove stavo perché ricordo a tutti che nella Lega ero il vice segretario regionale e quindi non penso che un vice segretario regionale, consigliere uscente, il terzo più votato in Abruzzo della coalizione, anzi forse dell'intero consiglio regionale, abbia problemi a ricandidarsi. Per rimanere coerente con me stesso dovevo cambiare perché è evidente che nel mio ex partito le scelte fatte in questa provincia nell'ultimo anno non mi hanno praticamente mai visto d'accordo e quindi ho manifestato il mio dissenso e quando ho capito che il mio parere di fatto non veniva preso in considerazione con educazione ho interrotto i rapporti e proseguirò altrove per rimanere coerente con la mia storia politica e con il mio legame con il territorio, il mio territorio, la mia provincia che purtroppo la Lega ultimamente spesso non ha rispettato.